musica 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 ah ok mi parte da sotto sto facendo video molto ma molto breve tipo 12 minuti 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 oh my gosh oh my gosh e io salto ahhh oddio meno mano pensavo che mi uccidevano se la smetti di toccarmi odio essere toccato pietra lunare pietra lunare questa me la peso 30 o no no peso 1 valore 30 forse willow mo cadevo dove è andato? e cade giù cade giù e cade giù come un coglion come un coglion qui che c'è ragno nani copraio chissà chissà se giù si va bu no non penso anni con che cazzo c'era anni con l'ultorio di di muzzavote famma che freddo mamma mia mamma mia mamma mia mi state facendo sgolare ok ampe dell'eleo dell'eleo qui che c'è altra roba inutile cerchiamo nel baule oro no chi è oh oh ma da dove cazzo spuchi tu queste canzoncine che mi mettono incudono timore guarda mettono una paura queste canzoncine che bella e buona apri la porta ah 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 siamo quasi giunti alla fine da dove ho iniziato io ragazzi quindi qua che c'è non voglio andare di qua oddio mi sa che ho sentito qualcuno che non dovevo sentire ah no ecco non me veni in gol oh 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 prima ho ucciso di due perchè il ragnetto non me non mi fa un cazzo quindi eh ma muore il ragnetto muori il ragnetto che non meriti di vivere non meriti di vivere se hai piccolo in significato e non meriti di vivere il giroscopio te lo metti in culo cio 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 i cosi i urli e anche per farli ricaricare più velocemente perchè il mio il mio amuleto che me lo che me li fa rendere più più veloci che si rigenerano più veloci per avere del 20% non serve raccogli sacco di buoni non serve a un cazzo fushro da fushro da ok qua ci sono le piattaforme stai uillo porca troia eh mi son protetto mi sono protetto mi sono protetto ovviamente ovviamente la zocco se sei una zanga aha 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 qui se non sbaglio ci dovrebbero essere quegli altri cosi brutti qui che c'è? lì c'è qualcosa lì olio ok qui il baule basilare et voilà ametista ah cosmeraldo 700 mi fa piacere guarda sono soddisfattissimo guarda eh però io non li vedo questi quindi quindi io devo andare sotto e li devo uccidere da vicino perchè con l'arco non li vedo va fanculo va fanculo fatto cacca sotto e e fermati fermati allora qua che cosa c'è? una porta apriamola che semplice e si rompe mi sono scocciato di guardare no il cancello è difficile e noi non lo apriamo e qua non c'è un oh qui 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 non c'è un dio di niente qui 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 baule ametista oro potenza del fabbro elmo a piastre lo teniamo elmo della distruzione minore eeeh no mi scoccio mi sa che dobbiamo scendere giù si l'indicatore indica giù quindi mi butto e me faccio male yoga grimaldello ok grazie qua che c'è una torcia schifosi mostri swam non è che c'era la scala no giusto non c'è perchè mi fa andare qua? oddio ah vedi c'è un paulo oro e questo? boh comunque sto a capipoco e niente eh ah vedi oddio rotto in culo ah si e io ti ti one shot ti ti faccio cadere giù cadeee sono arrivati i mostri ragazzi siamo nella merda fino al giro vita non mi uccidi non mi uccidi non mi uccidi oddio 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 basta con l'urlo femminile ok e devi vedere quando vengono i cazzo dei dei falmer potenti ma che hanno qua guarda oh e ti vuoi da una fermata o no guarda quanti quanti cosini rossi che ci sono ma che è una festa un pippa party è un pippa party e non mi avete invitato vabbè mi sono auto invitato e qua che è bu mi sa che vado a fuoco no ok un pippa party è tutta pippa dov'è il falmer eccoli ma dai con gli scudi ma siete proprio dei avete paura avete allora se mi riesco ad allontanare abbastanza riesco a ucciderlo senza dover guardalo come corre guardalo morto morto sei morto e non ti ho dato neanche l'opportunità di potermi attaccare neanche vabbè questo col arco me lo mangio in un boccone me lo mangio miam 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 e voilà e cade giù per terra con le braccine aperte veleno e spada non ci interessa niente noi ci intrufoliamo nella casetta chiudi la porta chiudi la porta ci sono altri disti mostri no oddio oddio oh oh hanno pure il laboratorio corona lol vai prendiamo tutto qui non c'è niente lì non c'è niente e andiamoci i falmer si sono appropriati di tutto ciò che non è il loro oddio questo è cazzuto questo perché ha preso fuoco questo falmer vade retro figlio d'endrocchia sadana sadana e muore 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 mancato eeeh fus e io ti ti butto stai a terra fermo ecco qualcuno che mi spara e tu muori e mi ha mancato persi argento persico argento e non mi sai prendere e ti ah si ah si ora facciamo una bella cosa vi faccio vedere io che facciamo eeeh cazzo si merda l'ho mancato l'ho preso ma ormai sono troppo bravo io allora vediamo ormai sono diventato troppo bravo per queste merde per queste merde mezze seghe qua mi sa che si piglia fuoco ah no vedi si blocca ogni tanto vedi ah boh le frecce farm frecce naniche queste fanno un dolore della madonna fanno ah boh dai cammina ah non mi sono fatto niente meglio questi che coltivano funghi coltivano funghi allucinogeni ma si fanno certe cose che poi si beccano che è chi è dove so dove so chi è chi è dove so chi è dove so chi è e vaffanculo e non mi tocca che mi fa schifo non mi dovete eccolo allora no questi maghi non me li dovete palmer sfuggente grazie a sta minchia è sfuggente e muore lo sfuggente e deve morire pure il maghetto non mi tocca eh vabbò mi stanno consumando tutta la magica guarda perché questi con l'elettricità in sostanza l'elettricità ma sicuramente lo saprete meglio di me che consuma la magica per questo io l'ho messo specialmente contro i maghi mi hanno fatto praticamente il mazzo come un tarallo però mettiamo la cura così appena pum 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 ok finita la cura no che fiamme qui su cosa c'è non c'è prendi libro rovinato prendi tua madre non puoi prendere niente praticamente è già no che fiamme Grazie a tutti.